È in dirittura d'arrivo la richiesta di riconoscimento alla Regione Campania del distretto rurale delle aree interne protette, resa possibile dopo il regolamento d'attuazione della legge regionale approvata dall'Aggiunta di Vincenzo De Luca. Così dopo sette anni di attività di animazione, concertazione territoriale e di sperimentazione con i primi gruppi operativi di innovazione, come la cesta della biodiversità, il Comitato Promotore invierà l'istanza già ampiamente condivisa e che sarà discussa nell'Assemblea in programma mercoledì 24 aprile presso il Centro di ricerca di Orticultura e Florovivaismo di Ponte Cagnano. Sono cinque le aree territoriali aderenti, Cervati, Alburni, Sele, Cilento, Costiera Amalfitana, Picentini e Vallo di Diano. Fra gli obiettivi del riconoscimento c'è quello di dare centralità alle piccole imprese, alle produzioni agricole tradizionali e di biodiversità locale, implementandone la filiera rigenerativa fra le aree interne protette con quelle metropolitane, così da restituire a queste aree una pianificazione unitaria ed integrata territoriale, in modo da mettere in rete i due paesaggi culturali riconosciuti dall'UNESCO, Cilento e Costa Amalfi. La rete si articolerà lungo gli assi fluviali del Sele e dei suoi affluenti. L'ambiente e i paesaggi storici rurali sono alla base delle produzioni agricole e del turismo. Infatti, fanno sapere dal comitato, hanno aderito al percorso di aggregazione non solo le imprese agricole ed agroalimentari e le associazioni del territorio, ma anche una settantina di istituzioni pubbliche, tra comuni delle aree interne, comunità montane, amministrazione provinciale di Salerno, sovrintendenza, scuole superiori ed enti di riserva, oltre a diversi GAL, consorzi di bonifica e di tutela, centri di ricerca pubblici e privati, università, enti di formazione ed associazioni di categoria. Il riconoscimento è uno strumento giuridico fondamentale per il futuro delle aree svantaggiate, indispensabile per invertirne il processo di spopolamento.